Salve, siamo nella settimana santa e dovremo parlare di cose elevate, di cose che ci aiutano a prepararci a questo triduo pasquale. Purtroppo però la realtà e la cronaca ci portano anche a parlare di cose che con la realtà hanno poco a che fare se non fossero ormai presenti dovunque. Sto parlando delle imprese, degli alfieri del buonismo, del politically correct, della nuova realtà che realtà non è e oggi voglio raccontarne una che mi è sembrata veramente interessante e questa riguarda un pensatore del campo conservatore americano che si chiama Michael Knowles. Che cosa ha fatto questa persona? Questa persona è stata invitata da un gruppo di studenti presso la University of Missouri Kansas City. Questo gruppo di studenti l'ha chiamato perché ovviamente voleva sentire e parlare questa persona che è nota per i suoi interventi su YouTube, sulle radio, insomma una persona, un pensatore noto e il tema della sua conferenza era veramente estremista se ci pensate, era men are not women, cioè gli uomini non sono donne. Una cosa che non si dovrebbe neanche dire perché è talmente evidente, però questo era il tema della conferenza e nessuno poteva pensare che qualcuno potesse non essere d'accordo sul fatto che gli uomini non sono donne, cioè non è una cosa offensiva, è una cosa un dato di fatto. Come dire i cani non sono gatti e cioè sono due cose diverse, non è che uno sono due animali diversi, non è che uno è peggiorativo dell'altro, semplicemente c'è una differenza. I leoni non sono tigri, non lo so, si potrebbe continuare all'infinito, il mare non è la montagna, insomma potremmo dirne quante ne vogliamo, insomma è una cosa talmente evidente nella realtà che non bisognerebbe neanche ripetere. Però c'è un video interessante anche disponibile su YouTube che fa vedere che durante questa conferenza, così diciamo terroristica sembrerebbe, 12 persone si sono alzate hanno cominciato a urlare in tutti i modi per cercare di bloccare questo oratore e qualcuno gli ha anche spruzzato diciamo una sostanza chimica che poi si è scoperto non essere tossica ma che comunque poteva essere una sostanza tossica, soltanto perché questo oratore difendeva la tesi che gli uomini non sono donne, cioè una cosa che ci fa veramente pensare su chi è l'estremista. Adesso voi direte va bene, questi sono 12 esagitati, fortunatamente l'università avrà punito le persone, gli avrà fatto capire che non si può impedire a un'altra persona nel nome della tolleranza essere intolleranti praticamente, cioè impedire ad un'altra persona di parlare anche se le sue idee non collimano con le tue ma queste sue idee dovrebbero collimare almeno con quelle dell'università se è un'università seria perché se lui dice gli uomini non sono donne, voglio dire avrebbe potuto dire le donne non sono uomini era lo stesso concetto, voglio dire come ho detto non è offensivo né per gli uomini né per le donne è un dato di fatto della realtà, gli uomini non sono donne. E invece il cancelliere dell'università il giorno dopo ha fatto una lettera in cui tra le altre cose ha detto, dico questo passaggio in una mia traduzione, un gruppo di studenti ha portato un oratore nel campus, un oratore le cui opinioni professate non sono in linea con il nostro impegno per la diversità e l'inclusione e il nostro obiettivo di fornire un ambiente accogliente a tutte le persone, in particolare alla nostra comunità LGBT. Chiusa la citazione. Ma se avete questo impegno alla diversità come anche ha detto poi l'oratore in un intervento successivo, ma perché non difendete qualcuno che difende la diversità fra uomini e donne? Cioè mi sembra una cosa talmente assurda che nel nome della cosiddetta tolleranza universale si diventa estremamente intolleranti, cioè non si può più neanche affermare la realtà. Voi parlate di diversità, ma adesso dire che gli uomini non sono donne è un attacco contro coloro che hanno, che sentono un orientamento sessuale loro, ma comunque sono sempre uomini e donne, uomini e donne che hanno un orientamento sessuale non eterosessuale. Quindi io veramente non riesco a capire dove era questo grande problema. Il cancelliere, sempre in questa lettera, ha anche parlato dicendo che questo oratore aveva extreme point of view, punti di vista estremi. Ma in questo caso qual è il punto di vista estremo? Il punto di vista estremo, ripeto, è che gli uomini sono diversi dalle donne. Ma se io facessi una conferenza dove dico se spengo la luce viene il buio e questo è un punto di vista estremo? Oppure se dico se scendo le scale non sto salendo? Qual è il punto di vista estremo? Se parlo vuol dire che non sto in silenzio. Ecco, cioè qui stiamo ormai arrivati veramente a questo livello, a livello che questa mentalità dominante, la narrativa dominante sta diventando una nuova prigione, un dogma, un super dogma. Mentre si contestano, si contesta il dogmatismo della religione, si è perfettamente d'accordo a farsi imprigionare nel dogma del politically correct, del buonismo, della teoria del genere e di tutte queste cose. Io penso che in questa settimana santa, anche sotto l'emozione dell'incendio alla cattedrale di Notre Dame, con tutto quello che di simbolico porta, bisognerebbe veramente interrogarsi in quale baratro stiamo scendendo. E se affermo questo, spero di non essere considerato una persona che ha punti di vista estremi.